Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nella 1 di 1 con le 5 femmini, oggi vi porteremo nel monte Lussari, venite con noi, la sigla e poi ci vediamo sul monte, saluta Lori, ciao Ciao a tutti Andiamo in cima alla montagna, dobbiamo prendere la cabina via, adesso andiamo a fare i biglietti e ci mettiamo una pelpina perché lassù fa freddo, Lorenzo andiamo? Cosa devono fare gli amici? Andiamo a fare i biglietti! 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 Sì e e e e e e e e e è seduto? adesso si chiudono le porte guarda sei pronto per salire? mi sono pagata per tutta la famiglia 3 euro in 50 perchè noi piccoli non vengono ci sono sale? dai l'alto ti piace? ora hai paura che c'è l'alto 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.